ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario pro l carnitine informazioni commerciali titolare chi fa srl concessionario chi fa srl confezioni pro l carnitine siringa 60 ml formulazione l carnitina 166.000 mg indicazioni la carnitina ha un derivato degli aminoacidi metionina e lisina e si trova naturalmente in tutte le cellule del corpo soprattutto quelle muscolari e cardiache nelle forme di l l carnitina solo la l carnitina per a a biologicamente attiva al contrario cereali e paiate sono poveri in carnitina il ruolo della carnitina essenzialmente quello di fornire energia agendo come unico trasportatore degli acidi grassi e lunga catena all'interno delle cellule nei mitocondri dove vengono metabolizzati attraverso processi ossidativi e combustione la l carnitina partecipa dunque alla conversione degli acidi grassi in energia e di conseguenza limita l'utilizzo dei carboidrati come fonte energetica riducendo cosa alla formazione di acido lattico muscolare ed ematico in corso di esercizio poi cacopirait l'acido lattico a il responsabile della comparsa della fatica pro l carnitine non solo fornisce energia ma aiuta anche ad aumentare la resistenza agli sforzi numerosi studi inoltre hanno dimostrato l'azione stimolante della carnitina a livello di contrattività cardiaca oltre alla sua azione vasodilatante periferica che contribuisce a migliorare il flusso sanguigno e la distribuzione dell'ossigeno tuttavia sebbene la l carnitina sia fisiologicamente presente nell'organismo durante gli allenamenti particolarmente intensi e le competizioni le scorte possono non essere sufficienti e il cavallo non ha in grado di rispondere rapidamente sintetizzando della nuova carnitina questo può portare alla rapida insorgenza della fatica con conseguenti performance scadenti pro l carnitine rappresenta la soluzione ideale per una rapida integrazione di carnitina e quindi di energia al cavallo atleta durante uno sforzo intenso posologia la quantità di carnitina da somministrare dipende dal tipo di sforzo richiesto e dalla quantità di lipidi assunti con la razione la necessità di integrare carnitina aumenta con l'aumentare della quantità di lipidi somministrati cavalli sottoposti e sforzi di lunga durata e barra o alimentati con diete ricche di grassi un terzo mezzo si ringa al giorno più 11 ea mezzo il giorno prima e il giorno stesso della competizione cavalli sottoposti e sforzi brevi e intensi 1 meno 1 ea mezzo si ringa al giorno da 2 a 10 giorni prima della competizione fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato